Allora, mi presento e sono Salvatore Innacolo, agente di commercio per la Russia. Non mi piace però, adesso mi fai sbagliare. Agente di commercio, vabbè, siamo d'accordo. Faccio tutti i pensieri possibili al mondo che mi possono capitare. Finito qui, incominciamo col dire che questo bambino che è alla mia destra è un bambino che mi sono cresciuto, ho avuto il piacere di vederlo crescere da quando è nato. E' il bambino più bravo, più buono, più delicato e più carnale che ci possa esistere per quanto riguarda le persone che esistono a questo mondo. E auguroni a mio nipotino Pietro, mi hai stato capace di chiamarmi da sotto al balcone che abito al quarto piano, zio, cala il paniere che ti devo dare una cosa, compro le caramelle che non se le mangia e me le dava a me. E questa è la mia gioia per questo bambino che deve crescere sano e deve avere un futuro più rosio che possibilmente mai. Va bene, grazie.